Oggi vediamo cos'è un Ride e come funziona e ve lo spiegherò come avrei voluto che lo spiegassero a me, senza numeri, formule o termini strani, coi Lego. Vedremo anche nel dettaglio come funziona il Ride 5 e perché secondo alcuni è considerato pericoloso. Ma ovviamente non è tutto bianco o tutto nero e al termine di questo video sarete in grado di scegliere con la vostra testa qual è la miglior soluzione Ride per le vostre esigenze. Siete pronti? Sì signor Capitano! Questo è un hard disk in Lego, queste sono le foto delle mie vacanze al mare. Io posso mettere le foto sull'hard disk per conservarle, il problema è che a questo punto l'hard disk è praticamente pieno. Certo potrei sempre comprare un secondo hard disk e metterci altre foto delle vacanze, ma a questo punto per accedere all'intero album dovrei scartabellare tra i file di questo hard disk e i file di questo hard disk e trattarli tutti quanti come cartelle separate. Perciò parlo con il mio amico informatico di quartiere che mi suggerisce di unire questi due dischi per farli figurare come se fossero un disco soltanto. In questo modo la mia foto gigante delle vacanze al mare viene spezzata e metà finisce sul primo disco, metà sul secondo. E entrambi i dischi hanno ancora il 50% di spazio disponibile per altri contenuti. Quello che ho appena fatto si chiama RIDE o Redonant Array of Independent Disks. P la ridondante di dischi indipendenti. Più precisamente RIDE 0, anche detto striping. Perché tutti i dischi che vado ad aggiungere vanno a sommare la capacità di archiviazione. Il problema di questo approccio è che ad esempio in questo caso, oltre a raddoppiare la capienza totale, ho anche raddoppiato la probabilità di perdere tutti i dati in caso di guasti. Infatti, se qualunque di questi due dischi qui si rompe, io rimango con mezza foto dall'altra parte. E per come vengono divisi i dati, non è che mi trovo solo la parte superiore o la parte sotto della foto. No! Immaginate come se la foto fosse passata per un distruggi documenti in cui linea per linea vengono messi un po' di qua e un po' di qua i dati. Quindi sarà impossibile da ricostruire, anche solo parzialmente. Tutto il contenuto è completamente perso, per sempre. Come potete immaginare, questa non è la soluzione ideale per conservare documenti che ci interessano e che non vogliamo perdere. Però è interessante perché la dimensione grezza di ciascun hard disk si va a sommare nella dimensione totale. E non solo la dimensione, anche le prestazioni. Perché il disco, ciascuno dei due dischi, scrive soltanto la metà dei dati. Ergo, io vado il doppio più veloce, sia sulle letture che sulle scritture. Ovviamente il caso reale non scala mai come quello teorico, però in generale abbiamo prestazioni maggiori sia in lettura che scrittura con una soluzione del genere. Solo però per cose che non ci interessano. Quindi cosa possono essere? Qual è l'applicazione tipica per un RAID 0? Beh, sono file di lavorazione, ad esempio, a cui anche se li perdiamo, a limite perdiamo qualche ora di lavoro, comunque riproducibile. Ad esempio io ci tengo i giochi Steam. Le mie librerie di Steam le scarico tutte quante su due dischi che sono in RAID 0. In questo modo i giochi saranno più veloci a caricare e se dovesse rompersi un disco o corrompersi anche solo un settore, mandare tutto quanto a sfascifottersi, comunque il peggio che succede è che io li riscarico da Steam. Ma se questi dati sono importanti, meglio optare per il RAID 1. Il RAID 1 prevede, come al solito, un minimo di due dischi, in cui però la foto delle vacanze al mare non viene spezzata e scritta metà di qua e metà di là. Viene sdoppiata e scritta interamente su entrambi i dischi. Così ho una copia esatta e il risultato è che se uno dei due dischi fallisce, beh, io ho ancora completamente tutti i dati. Il problema qui è abbastanza lampante, spendo il doppio per un secondo hard disk ma non aumento la capienza, aumento soltanto la resilienza ai danni. In molti casi comunque è sufficiente se ciò che mi importa è garantire la continuità di servizio, ovvero se si rompe un disco continuo ad accedere ai dati come se niente fosse e ho tutto il tempo per sostituirlo. Però occhio perché il RAID non è un backup. Lo scopo del RAID è garantire l'operatività e l'accesso ai dati senza interruzioni anche in caso di guasti. Ma un RAID non ti protegge dalla cancellazione di un documento importante o dal ransomware di turno che ti cifra tutti i dati e nemmeno dal fulmine di Fantozzi, sì la nuvola di Fantozzi fa anche quella l'occorrenza, che vi frigge tutto quanto quello che è collegato alla presa elettrica. Sapete cosa vi protegge da tutto questo e molto altro? Lo sponsor di questo video, Cabbit, di cui ho parlato anche in un video precedente sul backup, guarda caso. Quindi se sei un responsabile IT, orecchie aperte perché potrebbe interessarti. Cabbit è un servizio di Cloud Object Storage, ma non uno qualunque, perché Cabbit è geodistribuito. Con Cabbit i tuoi dati sono cifrati, frammentati in pezzi, ridondati e distribuiti su una rete globale peer-to-peer, quindi senza single point of failure. Questo garantisce massimi livelli di sicurezza e scalabilità illimitata, ma ad un costo inferiore rispetto ai servizi di Object Storage più noti. Cabbit è compatibile con Veeam, Synology, QNAP e tutto l'ecosistema S3, quindi creare un backup geodistribuito è semplice e immediato. I nodi che compongono la rete peer-to-peer di Cabbit sono sparsi in tutto il territorio italiano per diversificare e ridurre al minimo il rischio. Ma chi sono questi nodi? Sono gli utilizzatori stessi, tra cui ci sono già più di 120 aziende italiane, Bologna Airport, Granarolo e tante altre. Se un nodo della rete Cabbit va giù, una procedura di recovery crea automaticamente nuove copie del dato per garantire la ridondanza. Se ti interessa approfondire Cabbit, ti lascio il link in descrizione per provare il servizio gratuitamente. Tornando a noi. Il sistema perfetto non esiste. In RAID 0 raddoppio la capienza ma di mezzo l'affidabilità. In RAID 1 raddoppio l'affidabilità ma anche la spesa e la capienza rimane la stessa. Però se spendo ancora di più e di dischi non ne compro due ma tre, in un certo senso spreco meno soldi perché a quel punto posso fare un RAID 5. Finora ho fatto l'esempio con il mattoncino, dicendo questa qui è la foto, ma sappiamo tutti che i PC ragionano col sistema binario, quindi è tutto quanto un 1, 1, 0, questo non ha significato. Entriamo più nel dettaglio. Questa è una sequenza binaria e facciamo finta che sia la rappresentazione binaria della foto. Quindi questa è come la foto a cui mi sono riferito col mattoncino blu è memorizzata su disco. I bianchi sono 1, i neri sono 0, quindi 1, 1, 0, 1, 0, 1. Come al solito io potrei mettere questi bit su uno, se non lo droppo, di questi harddisk qua, però ho sempre i problemi già elencati. Quindi decido di prendere tre dischi, che sono il minimo per un RAID 5, e li configuro in maniera molto particolare. Prima di tutto riservo dei blocchi per una cosa che si chiama parità, che tra poco vediamo come funziona. E su ciascun disco li vado a mettere in scaletta, dal più basso a salire. Tra poco capiamo anche il perché di questa scelta. Ora comincio a travasare questi dati qua, sui vari dischi, esattamente come farebbe un RAID 0. Quindi dividendo questi dati e scrivendoli un po' su tutti quanti i dischi. Quindi vado a prendere il primo e scrivo qua. Il secondo qua. Il terzo qua. Il quarto e lo scrivo qua. Saltando appunto il blocco di parità perché è già riservato. Il quinto scrivo qua. E l'ultimo lo scrivo qua. A questo punto manca un solo passaggio. Questi blocchi speciali di parità li devo calcolare. E la regola con cui li calcolo è semplicissima. Per ogni linea orizzontale, ad esempio, questo qui è in corrispondenza di questo e questo. Sono dello stesso colore? No. Allora metto un 1. A questo livello qua ho questo e questo. Sono dello stesso colore? No. E allora metto un altro 1. E questo qui si trova in corrispondenza di questi due che sono dello stesso colore. E allora metto 0. 0 perché questi sono uguali. 1 perché questi sono diversi. E 1 perché questi due sono diversi. Quello che ho appena fatto si chiama XOR binario. È una regola semplicissima in cui se due cose sono uguali, allora metto uno 0. Se due cose sono diverse, allora metto un 1. E questo, che ci crediate o no, mi permetterà di perdere qualunque di questi dischi senza ripercussioni sui dati. Non ci credete? Ve lo faccio vedere. Diciamo che questo va via. Addio. Morto. Inserisco un nuovo disco, però a questo punto devo andare a ripopolare i dati che ci stanno qua sopra con quello che c'era prima. Quindi come faccio a ricalcolare che cosa dovrebbe stare qui dentro? Beh, è molto semplice. So che nel punto più in basso c'è un blocco per il controllo di parità e quindi lo vado subito a mettere. E lo calcolo anche. Guardate, questo qui e questo qui sono diversi e quindi questo qui deve essere impostato a 1. Nel blocco successivo che cosa ci metto? Qui c'è un blocco di parità che è messo a 1, quindi vuol dire che c'era qualcosa di diverso rispetto a questo. E quindi ci devo mettere uno 0. Così i conti tornano. E la stessa cosa la faccio anche per quest'altro blocco, perché su questa linea ho un 1 e un bit di parità impostato a 0, che mi suggerisce che qualunque altra cosa ci fosse era uguale a questa. E quindi vuol dire che è sempre un 1, anche lui. E di fatto i conti tornano, perché se faccio lo XOR tra questo e questo, essendo uguali, può uscire soltanto 0, come controllo di parità. Ho appena ricostruito i dati che c'erano sul vecchio hard disk. Non ci credete? Guardate. È uguale. Se avete ancora qualche dubbio vi consiglio di farvi uno schizzo su carta, non c'è bisogno che usiate i Lego, e vedrete come qualunque combinazione di disco che si va a rompere, riuscite sempre comunque a ricostruire i dati che stavano sul disco. Ecco, secondo alcuni, la tolleranza di una sola rottura non è abbastanza. E tra gli esempi più menzionati c'è questo. Che succede se questo disco qui si rompe e mentre lo sto sostituendo e sto ricostruendo il ride, se ne va a rompere anche un altro? Ecco, a quel punto i miei dati sono persi per sempre. Non c'è modo di ricostruire la parità con soltanto un disco su tre in funzione. E a quel punto dipende dal vostro modello, se questa cosa valda bene lo stesso oppure no. Se avete fatto attenzione nell'acquisto a prendere dischi con durate di vita molto diverse, quindi è improbabile, e comunque non è così critico dover aspettare qualche ora per ripristinare un dato nel caso peggiore, allora potreste cavarvela con un ride 5, è normalissimo. Tuttavia, se siete paranoici, come quelli che dicono potrebbe rompersi un disco mentre stai sostituendo, che a seconda dei casi abbiamo visto non è così improbabile, potreste fare un ride 6. Il funzionamento è analogo, solo che servono un minimo di 4 dischi, non più 3, perché ne vengono utilizzati addirittura due per la parità, e non più l'Oxor per ricostruire la parità, ma il codice di Reed Solomon, che è solo un pochino più complicato, ed è quello che usa Cabit, fra l'altro, per ricostruire i dati tra i vari nodi della rete. Piccola chicca. Però questo non è un video così specifico, quindi se vi interessa il codice Reed Solomon e il funzionamento, vi preparo un video a parte. Ma se tutto questo fosse troppo semplice e volete quel pizzico di brio in più, potete sempre fare un ride 10, che in realtà è un ride 0 più 1. Ed è questa configurazione qua, la foto delle vacanze. Prima la spezzo in un ride 0, e questo ride 0 è composto da due dischi per lato, che sono tra di loro in ride 1, quindi in duplicazione. Voilà. Quindi queste due copie qua sono uguali e sono la parte di sinistra della foto, queste due copie qua sono uguali, sono la parte destra della foto. Parte destra e parte sinistra si uniscono nel ride 0, e alla fine ricostruiscono il mattoncino della foto completa. Si chiama ride 10, perché è ride 0 qui e ride 1 qua sulle foglie. Dove volete che lo metta? Non so se è più chiaro. Meglio? Ride 10. 1.0. E queste erano le principali tipologie di ride. Spero di avervele spiegate in maniera decente, ma a questo punto sorge spontanea una domanda. Qual è quello che fa per me? Se vi interessa questo argomento, fatemelo sapere nei commenti, perché è importantissimo che io lo sappia, così poi vi posso preparare un video apposta. Bene, questo è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.